benvenuti sul canale 9000 giri elaborazioni auto sportive allora oggi vi ripresentiamo per l'ennesima volta perché alfa ne abbiamo presentate a iosa comunque abbiamo visto che hanno sempre un notevole appeal sul canale in questo caso è una giulietta il 1.4 multi air da 150 cavalli quindi motore strarodato dove il cliente ci ha chiesto questo è un cliente nuovo che abbiamo acquisito grazie alla comunicazione che stiamo facendo sul canale quindi la prima cosa che ci ha chiesto è di mettere mano allo scarico quindi ha cominciato a fare diciamo addirittura una cosa parziale perché noi di solito sugli scarichi proponiamo terminale come voi sapete nella seconda maggioranza sono componenti della ragazzon proponiamo sempre il terminale sportivo omologato con le uscite duplex e il centrale diretto in questo caso il cliente ha iniziato con il terminale ha scelto anche a livello economico cambia a seconda del tipo di uscite ad esempio in questo caso il cliente ha scelto le uscite brunite che hanno un costo superiore rispetto a quelle diciamo in acciaio cromato quindi per il momento per questioni economiche ha deciso di iniziare con il terminale lui aveva questo il terminale di serie chiaramente con l'uscita singola a destra con un silenziatore abbastanza non troppo grosso comunque diciamo di dimensione abbastanza sicuramente più grosse rispetto al volume del nostro terminale ricordiamo che questo terminale omologato qua c'è la stampigliatura dei numeri e poi in macchina lasciamo la card di omologazione da presentare per eventuali controlli o da parte delle forze dell'ordine quindi inizialmente appunto il lavoro riguarda il terminale questo è il tubo centrale che dal nostro punto di vista ha questo silenziatore che andrebbe tolto per avere diciamo la rumorosità ottimale il giusto sound bisogna togliere anche questo pezzo quindi dove c'è adesso questo silenziatore diventerebbe un tubo diretto in questo caso il lavoro è fatto in maniera perfetta a livello estetico questo è il dam posteriore del cliente che dovremmo sostituire perché ovviamente adesso è un'uscita singola in tanti casi riusciamo a fare artigianalmente la sagoma dall'altra parte questo purtroppo avendo una nervatura che viene fuori in questo modo ovviamente non possiamo ricrearla dall'altra parte nel senso potremmo fare l'asola come questa però il risultato assolutamente non è non è appagante quindi la macchina per il momento la consegniamo senza il dam posteriore non è un grosso problema andare in giro senza il pezzetto di plastica e andremo poi con il cliente a trovare un dam con la doppia uscita quindi qui abbiamo diverse ditte che fanno questo genere di prodotti oppure la soluzione quella di prendere un ricambio originale basta prendere il dam della 1750 quindi che è già predisposto per la doppia uscita quindi come dicevo questo è un primo passo poi chiaramente a livello diciamo di logica nella stragrande maggioranza dei casi sicuramente lo step successivo sarà quello di cambiare il tubo centrale e poi magari mettere in mano l'elettronica e fare altri upgrade per avere come sempre diciamo una macchina tailor made cioè una macchina personalizzata sui propri gusti poi ripeto queste sono cose tecniche per cui a livello estetico c'è poco sì ci sono le uscite però nella serena maggioranza dei casi quando uno comincia a mettere mano alla vettura sono sempre dei gusti molto soggettivi sui quali noi cerchiamo di intervenire il meno possibile ognuno si veste in una determinata maniera o si personalizza la macchina a seconda di come ritiene più opportuno quindi per il momento su questo abbiamo terminato eventualmente quando faremo degli ulteriori upgrade potremo fare un aggiornamento per il momento è tutto vi saluto e vi invito a mettere un like che quello sicuramente non costa niente a iscrivervi al canale cliccando sulla campanella in basso a destra e a consultare magari il sito www.9milagiri.it dove troverete tutto quello che noi facciamo non solo motore ma noi facciamo praticamente di tutto sulle sulle vetture quindi avete un panorama completo è una cosa molto interessante andatevi a vedere l'archivio elaborazioni all'interno del quale troverete più di 3500 schede vettura suddivise per marca dove se uno cerca non so giulietta lo mette nel motore di ricerca e verrà fuori decine e decine di giuliette con modifiche diverse fra loro quindi per il momento è tutto alla prossima